salve popolo della terra io sono davide giovanni e oggi siamo ritornati in un nuovo episodio della survival no davide questa è la serie scp e va beh stessa roba più o meno siamo lì prima di cominciare stiamo per raggiungere anzi stanno per raggiungere i 1000 iscritti quindi ricordatevi di struccare pulsante dell'iscrizione e già che ci siete attivate la campanellina delle notifiche perché sennò vi picchio vi faccio del male fisico e lasciate un bel mi piace anche quello sì in questo episodio questi incapaci scopriranno una cosa veramente incredibile quindi guardatelo fino alla fine ma non prima di aver visto queste fantastiche fan art peccato non venga mai rappresentata la bandiera di godopoli ma se prezza comunque detto questo vi lascio questo fantastico incredibile pazzesco video e buona visione ok e l'enciclopedia va qui perfetto osci hai sistemato la tua zona bellissimo tutto quanto è al suo posto abbiamo anche già fatto la nostra camera da letto anche se sarà un pochino strano dormire con me con un uomo oddio oddio mega mega si è tornato ma dove eri fino a tre ore fa mi sono andato a fare un controllo in giro controllo in giro per cosa scusami è dato che io ho già portato tutta la mia roba è una brutta notizia che brutta notizia scusa è meglio che vediate voi in che senso dobbiamo venite che succede e casti ce ne andiamo un attimo cosa state facendo al gattino ci sta gesta gesta che succede mega diciamo che nel solito giretto che stavo facendo c'è stato un lieve problema che problema scusami ma è più che altro non mi sembra per niente scosso cosa mi significa cosa è successo è un scp abricciato come fai a stare così calmo scusami adesso vedrai un altro ma come adesso vedrai cosa stai dicendo perché perché siamo qui cosa aspetta 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 cosa cosa mi significa ehi ehi di cosa stai parlando no di nuovo perché ma perché questa cosa è così calmo è scappato di nuovo potrebbe essere da qualsiasi parte non noti nulla di strano che cavolo effettivamente la cella e non è stata distrutta cosa significa a guardo ho già controllato tutto anche le telecamere e non c'è davvero e nemmeno nelle telecamere come i too many voice la statua le telecamere non hanno visto nulla e non ci sono sono segni come se qualcuno avesse spento le telecamere forse e no perché questa cella questa cella non è boh è perfetta 173 anche lui la sua cella era inerme giusto perfetta esattamente i 939 uguale giusto sì cosa cosa non stiamo capendo c'è qualcosa che ci sta sfuggendo c'è qualcosa che ci sta sfuggendo sì scusatemi eh zero c'è un blocco che zero non wow ok questa è una situazione davvero strana allora dobbiamo studiare la situazione tutti gli altri scp che non abbiamo visitato non è mai successo nulla del genere è vero tutti quanti quelli su cui facciamo esperimenti poi non è vero non è vero e il quadro il quadro è ancora lì se non mi sbaglio l'ho visto prima il quadro il quadro è lì non sappiamo se è briciato effettivamente o se è parso magicamente a sto punto noi comunque facciamo attenzione non si sa mai forse opera di un altro scp che non conosciamo in che senso scusami un scp sconosciuto senziente che fa qualcosa non ho idea un scp invisibile che fa sparire gli altri scp ma stiamo parlando di pazzi e signori non scixta forse uno forse un scp in grado di cambiare lo spazio tempo non ho idea non ne ho mai studiato non ne ho mai studiato uno e anche sì e poi non è qualcosa della nostra taglia signori non scixta cosa mi significa non ho idea dobbiamo studiare di più la situazione non magari parliamo anche con i class di magari sono più intelligenti di quel che pensiamo class di vieni qua scusa era così carino non mi interessa hai un pesce in mano una bistecca pepino di cosa in mano insomma allora 096 non è più nella sua cella ma ancora di nuovo sì ma questa volta stiamo notando delle cose strane nel senso che l'scp la gabbia di scp 096 non è rotta semplicemente non c'è l'scp significa che è sparito a caso avete scp che possono trasportare che possono trasportare ma sì ma non sono mai entrati in contatto con gli scp che sono spariti non hanno mai visitato 173 non hanno mai visitato 096 e soprattutto se c'è qualcuno che è entrato in contatto con quelli scp in questo momento sarebbe morto e lo stia sfruttando un impostore un impostore perché solo gli scp che avete che abbiamo visitato sì è no è questo quello che scappiamo quelle cose lì quei cose lì comunque sono cose che abbiamo appena visitato studiato tra virgolette perché solo qui stessa cosa il gatto eppure non sono sgp che sono spariti il gatto l'abbiamo visitato me non mesi ma giorni fa ed è ancora qui hocixta vorrei che lei svolgesse delle indagini al riguardo certamente prego si metta lì usi il mio computer faccia quello che vuole ma dobbiamo capire che cosa sta succedendo qui noi non possiamo rimanere con le mani in mano siete pronti no ma tu vuoi sempre dormire una roba assurda non mi interessa non mi interessa ma partiamo dove ci vuole mamma mia dovete sempre dormire una roba assurda dai su dai su 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 allora sarà un esperimento flash insomma non abbiamo molto tempo voglio arrivare a fondo di questa situazione allora 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 andiamo da uno dei miei scp preferiti eh sì eh sì eh non so se avete mai sentito eh sì non so se avete mai sentito parlare di scp 049 no il dottore della peste è uno dei miei preferiti essendo che in giro per il mondo è pieno di questi scp eh dobbiamo fare eccolo qua dobbiamo fare di tutto per capire quali sono le cose migliori per sconfiggerli ok ora uno dopo l'altro dentro 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 muro 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 bravissimi bravissimi allora benvenuti benvenuti siamo da scp 049 guardatelo quanto è bello guarda come gira mamma mia scp effettivamente è non conosci gli asche è un traditore insomma non non prendere la sua della sua strada scp 049 è un dottore della peste viene direttamente da anni passati almeno da quanto dice lui è un scp molto più socievole di qualsiasi altra persona fatto sta che lui ha questo sentore al sentore della pestilenza se dentro di voi sente del male lui lo tirerà fuori con le cattive siamo qui per è solo un altro folle è un altro folle esattamente come gli asche anche lui cos'è che gli asche cosa vuole fare gli asche si respira non si l'ha mai ascoltato la cura alla stupidità ma da stupendo lui guarda la stessa cosa più o meno sì lui vuole trovare una cura la pestilenza è diverso prima volevo provare a parlarci un pochino sappiamo che è socievole insomma vediamo che cosa mi dice dottore dobbiamo sperimentarla di nuovo dottore mi perdoni se lo chiedo ma per quale motivo continuate di interrompermi sono una persona impegnata io beh dobbiamo capire come sterminare i suoi coetanei signor dottore e ora mi dica per quale motivo dovrei aiutarla non mi deve aiutare devi stare fermo e noi penseremo a tutto per centrare i suoi compagni per una piacevole stretta di mano certo mamma mia che simpatico bene allora l'avete sentito abbastanza è un po uno psicopatico sì sì assolutamente detto questo mega passi le resurrectine perfetto una due bravissimi bravissimi siete pronti li facciamo entrare una alla volta ok così che studiamo bene la situazione se sentirà che avete la pestilenza insomma se sentirà questa pestilenza dietro di voi ha un tocco molto velenoso gli basta toccarvi per uccidervi dopo di che vi vi scaverà insomma descriviamolo così e rimpiazzerà i vostri pezzi per rendervi i suoi zombie ok sempre desiderato diventare uno zombie come in the crawling departed e mamma mia che titoli mamma mia ha acculturato infine tu che sei nuovo che ne pensi di fare tu la sua prima visita la tua prima missione va bene perfetto dai dentro auguri perfetto dottore non c'è nulla di cui preoccuparsi va bene ah non lo tocchi un attimo dottore so il canto freme dal il suo modo di descrivere il mio lavoro è barbarico certo è barbarico il mio modo di descrivere il suo lavoro ah che cosa fa lei sentiamo eccelse io faccio scienza signorina ah per forza certo allora infi allontanati un pochino questo qua è un pazzo detto questo detto questo infi tu sarai il primo a doverci lasciare purtroppo dobbiamo vedere come riusciremo a sterminare insomma gli zombie che lui crea ok dottore sente per caso della pestilenza ovviamente questo posto come gli altri che dire faccia quello che deve mi sa che arriva del tuo momento amico mio vieni stringimi la mano che cosa che cosa cosa succede ora in questa che cosa succede dottore non lo so questo da questo odore indecente cosa che cosa sta parlando lui lui non è impuro ma c'è qualcosa dentro di lui non mi piace tiratelo fuori dal suo posto lasciatemi in pace ok allora infi vieni ok mettiti in azione che strano ok allora mega voi state qui non toccate niente devo parlare con mega vieni mega wow 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 ok è la primissima volta che vedo un scp 049 disgustarsi non voler toccare un class di che cosa cosa non sto capendo questa giornata è assurda perché non ne ho idea è la prima volta anche per me che ne vedo uno schifarsi allora ha detto che dentro di lui sente sente dentro qualcosa infi ok magari infi è speciale non lo so io cosa ok aspetta cosa sta succedendo che ti parlate perché mi vedo sono un po un po scosso ci sta non ti preoccupare non ti preoccupare e con la medicina che io ti ho dato che ti ha dato mi carata vabbè con la medicina che ti abbiamo dato è impossibile morire purtroppo il dolore che sentirai è identico a quello che sentiresti normalmente ma tornerai in vita ok quello che non stiamo capendo è perché scp 049 non non ti vuole toccare proviamo con dea dea vai dentro eccoti qua eccoti qua una nuova vittima mi sembrava di venire dentro di lasciarmi in pace non è il momento scp 049 le ho chiesto di infettarlo è il suo lavoro no se volete un altro problema tra le mani avvicinati è uno scherzo per caso che cosa sta succedendo ci sono queste persone cosa mi significa chi scusa di cosa sta parlando sono diversi diversi non sono diversi è un class di qualunque no c'è qualcosa di diverso in loro e non mi piace oh mio dio ok dea esci devo cercare di capire la situazione cosa non so ma si prova anche tu l'ultimo cast che abbiamo vai dentro ok questo è l'ultimo class di che abbiamo posso sentirlo già da qui che cosa voi siete diversi diversi ok ma si esci subito esci subito venga chiudi cosa senti direttrice che coraggio perché io non sono pura come gli altri perché non viene qui e lo scopre non sente niente di diverso in me come ha sentito negli altri no lei è come tutti gli altri mega apri mega mega apri chiudi 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 ok 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 allora ok grazie per aver apporto in fretta me la sono vista brutta allora ragioniamo perché a voi non attacca e a me sì saprà che non può ucciderci cosa hai detto abbiamo usato la resurrectina quindi non sentirà che tramite la resurrectina non può ucciderci quindi non può debellare l'impurità dottore sai per caso della medicina che hanno in corpo che li potete risuscitare è per quello che non li vuoi è diverso è diverso ok spiega in loro non c'è alcuna malattia posso sentirlo sentire cosa un semplice tocco e io cesso di esistere cosa cosa ci vuole coraggio dottoressa a vivere assieme a tale mini evidenti ok 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 mega 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 sto cominciando sto cominciando a mettere insieme i pezzi dentro di loro c'è la resurrectina ok mi si è aperto mi si è aperto un mondo allora dentro di loro c'è la resurrectina la resurrectina a quanto pare da quello che ha detto lui ha detto che ha paura di toccarli perché morirebbe cesserebbe di esistere non è che la resurrectina qualche componente che potrebbe dargli fastidio e certo abbiamo la panacea che cura qualsiasi male magari da fastidio quella oppure abbiamo dei componenti del rettile difficile da distruggere abbiamo della tele kill dentro e non lo so però non non capisco non capisco allora cosa ma se cosa stai facendo no faccio come con gli animali picchietto sul vetro ma che non è un animale ma sei scemo è un dottore della peste se non fosse per qualsiasi cosa mi abbiano dato non avrei neanche la decenza di riportarti in vita hai capito fai proprio schifo lo sapevo allora va bene dai divertiti massi sei un pazzo sei tu quello in pericolo adesso però vincete solo questa volta dai massi esci subito mi sei divertito abbastanza non ricapiti dai anche perché il mio sgp preferito devo essere modesta e lei è un gran figo modestamente signorina vede mamma mia allora mi dispiace dottore devo provare a fare una cosa voi e la scienza non c'è bisogno di uccidermi signorina non la voglio uccidere prende danno prende danno per me sembra che lei ci stiamo provando ci sono provato a fare cosa a no 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 era per vedere se capito non si preoccupi rimanga là dentro aspetti e l'ho mancata malissimo chiuda chiuda mamma mia siete matti chiudete tutto chiudete tutto ok allora su di lui non possiamo conturre esperimenti sappiamo che muore con armi da fuoco siamo felicissimi è un umano d'altronde possiamo andare dobbiamo parare assolutamente con la signorina shiksta dobbiamo capire un paio di cose abbiamo scoperto abbiamo scoperto delle cose la resurrectina lo spaventa ha detto che con un solo tocco grata un solo tocco ha detto un solo tocco dobbiamo condurre altri esperimenti venite 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 e scusatemi se ve lo dico dobbiamo condurre un esperimento con il vostro amichetto l'ipod l'ipod no si beh non è un amichetto mio quindi ma ve lo faremo sul gatto allora avete ancora la resurrectina in corpo giusto beh sì perfetto massi tu che ami tanto i tuoi ipod carini schifezze quelle smemmoline che camminano ne devi abbracciare uno fortissimissimo in questo momento io vado a farlo schiantare no 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 abbraccia vai a abbracciarlo allora ti guardo da qui non li voglio vedere accendi la luce per favore perfetto dai abbracciarlo uno fortissimo fortissimo e vieni qui piccolo dio ok esci pure abbiamo fatto l'esperimento serio schista? no sì abbiamo informazioni vieni subito siamo dati da scp 049 il dottore non vi buttate dalle scale ma non mi fate male abbiamo ricevuto delle informazioni scp 049 è contrario è letteralmente contrario a toccare uno dei class d ma quando sono entrata io ha cercato appunto di prendermi ok capiamo che lui ha detto che dentro dentro il class d c'è qualcosa che se entra in contatto con lui lo ucciderà e se c'è qualcosa legato all'euro alimentazione tipo i biscotti di e vi abbracciate anche i biscotti essendo che lui ha nominato ha detto che toccandosi ok noi pensiamo sia la resurrectina è l'unica cosa che c'era di diverso tra me e class d in quel momento dobbiamo vedere se uno di questi effettivamente smette di esistere perché effettivamente come ha detto mega è passato troppo poco tempo vediamo vediamo e mentre voglio condurre altri studi venga signor Roshiksa non possiamo dubitare di niente in questo momento non possiamo dubitare di niente abbiamo della resurrectina ok dobbiamo fare ogni esperimento possibile mettiamoci al lavoro ciao 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 ciao